Ragazzi, allora, buona domenica a tutti un'altra volta, è ufficiale che si gioca questo turno di campionato c'erano alcuni club che non volevano la sospensione e a me già viene in mente quale potrebbe essere questo club o quali potrebbero essere questi club senza fare cose complotistiche però sta di fatto che qualora fosse stato sospeso il regolamento alla mano poi avrebbero deciso, avrebbero dovuto decidere certe cose che io non sarei stato accordo, lo sapete benissimo perché io i trofei li voglio vincere sul campo, non sono come altri che appunto negli anni dei giubilei o con Farsi hanno vinto trofei, insomma un po' così però comunque, a parte questo, un conto magari vincerlo anche con una piscina come Perugia un altro conto è vincerlo con giornate ancora da giocare io sono dell'idea che quando mi dicono che Agnelli ha poteri in Lega mi viene a ridere perché Lottito per me è uno di quei presidenti, anzi è il presidente che probabilmente ha più poteri tutti in Lega è poco a fare e secondo me uno dei presidenti che ha spinto per giocare è lui perché sa benissimo che qualora la Juventus oggi non dovesse vincere stasera contro l'Inter e non è difficile, può capitare, qualora venisse sospeso il campionato di settimana regolamento alla mano la Lazio vincerebbe lo scudetto, capite? quindi è un po' un complottista sto discorso però viene un po' il dubbio ecco perché se si ritiene veramente che sia importante l'emergenza sanitaria la sanità dei tifosi, dei giocatori bisognava sospendere tutto già questa settimana senza porti aperte, porti di chiusa, rinvii, sospendere tutto questa cosa non è avvenuta, si sono trovati all'inizio della partita praticamente Parma Spal nel decidere cosa fare e cosa non fare perché Spal da Foro probabilmente si è svegliato mezzogiorno e mezzo quindi ha fatto questa richiesta a mezzogiorno e mezzo purtroppo è così comunque ufficialmente questo turno dovrebbe giocarsi da quello che filtra Sky la Champions League non sarebbe comunque a rischio e si dovrebbe giocare il campionato però rimane in bilico rimane in bilico perché comunque la situazione è così non è assolutamente facile in questo momento in Italia io sono dell'idea che bisognava sospenderlo ma non perché lo squadetto sarebbe arrivato arrivando ripeto io l'avrei rifiutato l'avrei veramente rifiutato e avrei sperato soprattutto che la mia società appunto l'avrebbe poi rifiutato quindi non è quello il discorso è il discorso di coerenza perché se per te è un problema nazionale di sanità di emergenza sanitaria di affollamenti e quant'altro proprio per questo il campionato andava sospeso perché comunque vediamo che i tifosi al di fuori dello stadio si trovano, si incrociano comunque questo è stasera quindi Juventus-Inter salvo clamorose cose, clamorose situazioni si dovrebbe comunque giocare a porte chiuse io ripeto anche a parte il discorso della sanità per come lo sto vivendo io questo turno di campionato e questo campionato di per sé da qualche settimana non lo sto vivendo come un campionato di calcio non lo sto vivendo come calcio e quando questa sensazione ti manca veramente è inutile continuare al di là di chi appunto dei regolamenti e quant'altro io non lo so poi molti dicono ma proprio l'anno della Lazio ragazzi l'anno della Lazio l'anno di questo, l'anno dell'altro se questa è la situazione non lo voglio cioè ripeto non voglio lo scuoletto da Juventus non darlo a nessuno punto è poco affare quindi questo è quanto vedremo come andrà in giornata perché poi io non escludo assolutamente colpi di scena ormai è un colpo di scena continuo buona giornata a tutti sempre comunque fino a fine Forza Juventus e per il momento ufficialmente si gioca grazie